Ciao a tutti amici, oggi andiamo a vedere delle bustine che si chiamano BB, Gugu e Bebè della via bustini, usciti da pochissimo in edicola e quindi andiamo ad aprire e trovare cosa? Vediamo una confezione tutta rosa con dei bambini che hanno in testa dei cappelli a forma di animali, questi sono tutti quelli che puoi trovare all'interno della confezione, andiamo a vedere e ad aprire tutto, apriamo il primo e vediamo che abbiamo trovato abbiamo trovato BB Sofia, una bambina con un capello in testa che in poche parole ha una colpa in testa, un animale carino carino carino, questo è il suo librizzino, questo ci ha spiegato di nascita, mi spiega come si gioca un po' a scaccioeta, questo è appunto l'animale che ha in testa che sarebbe una volpe che ha un capellino a forma di volpe, poche parole mi spiega cosa sono le volpi e questi sono tutti quelli che puoi trovare, molto carini, ci piace o no, fatemolo sapere nei commenti con i bambini, andiamo a vedere ciao Adesso andiamo ad aprire la seconda bustina dei BB Bumbu da Instagram di Anastasia. Questo lo vedremo all'interno. E' scritto quattro annunci di BB Bumbu da Be. Andiamo a trovare Baby Chloe, un'altra bambina certificata di nascita. Andiamo a vedere che ha un cappellino a forma di scogliattolo, che caruccio! Qui spiega chi sono gli scogliattoli. E qui sono libretti insieme. Andiamo a vedere chi è come caruccia. Quali preferite tra i due? Quella con i cappellino a forma di rompe o questo con i cappellino a forma di scogliattolo? Fatemelo sapere nei commenti! Arrivederci amici! Questo video è finito! Allora, potete lasciare un like, ovvero un pulizino in su, se vi piace questo video, un commento e... e un video se questi... un nuovo bustino in viaggio! Ma ciao a tutti! Ciao a tutti!